Bene, siamo un po' in controluce, però siamo nella parte opposta rispetto agli altri filmati. Montenerone, uno spettacolo pazzesco, a parte i tralicci, ciò che si riesce a vedere da qua. Purtroppo c'è un po' di foschia, altrimenti lì, dietro di me, si dovrebbe vedere l'Adriatico, Pesaro, Fano, quelle zone lì. Una cosa incredibile questo posto. Perdonate poi il controluce, ma non posso farci niente, perché siamo in controluce, purtroppo, di qua. Montenerone, uno spettacolo.